I cinque errori più comuni che si possono commettere nel vivere la confessione sacramentale. Ovviamente ogni sacerdote che esercita il ministero della confessione potrebbe aggiungere altro rispetto a quanto io in questo momento potrò dire, ma mi pare di aver trovato cinque piccoli elementi su cui è possibile concretamente cambiare rotta. Innanzitutto una premessa, e la premessa è questa, la vita cristiana si fonda su una certezza, la resurrezione di Cristo che si interseca con la mia storia attuale, cioè Cristo mi è contemporaneo, essendo contemporaneo alla mia vita, entra nella mia vita, fa parte della mia vita e salva la mia vita. Perché è importante questa premessa? Perché la confessione non è semplicemente un confrontarsi su un adempimento o meno di una norma, ma bensì nel legarsi sinceramente, radicalmente al Signore Gesù che è presente nella mia vita. Ed ecco il primo grande errore della confessione. Per vivere la confessione in modo superficiale basta semplicemente non fare l'esame di coscienza. Vale a dire, non riesco a mettermi a rapportarmi concretamente dinanzi a Gesù. Parto semplicemente da me, parto semplicemente da come mi sento. Non c'è un riferimento alla Sacra Scrittura con cui mi confronto, la parola di Dio. Non c'è un riferimento alla sua figura di Gesù. Quindi non parto da Lui. Non vedo che stando dietro al Signore magari, ecco, su alcune cose potevo fare meglio. Lui avrebbe fatto cose diverse. Ma bensì guardo solamente a me stesso. Quindi è in più un vedere se io sono stato capace di, piuttosto che di seguire il Signore. Quindi il primo problema è appunto fare un esame di coscienza. L'esame di coscienza si può fare in tanti modi. Quello più classico attraverso il decalogo. Oppure semplicemente, io consiglio questo anche sia ai ragazzi che agli adulti, avere questa triplice relazione con Dio, con i fratelli e con me stesso. Ci sono dei testi nella Sacca Scrittura che possono aiutarci. Io ne suggerisco di solito tre. Il primo è il Vangelo venticinquesimo di Matteo, l'ultima parte il giudizio universale. Il secondo è la Letta ai Romani, il capitolo 12. E l'altro è l'Inno alla Carità di San Paolo, che è nella prima Letta alle Corinzi, capitolo 13. Prendendo questi tre testi è già molto facile vedere e confrontarsi con la propria vita. Non partendo dal Signore Gesù, ma partendo da me stesso, cosa succede? Ecco il secondo errore. Fondamentalmente io racconto delle circostanze della mia vita. Racconto semplicemente come sta andando la mia vita. Racconto l'aspetto generale. Un po' aiuta il sacerdote a capire un po' chi sei e come sei inserito, però alla fin fine, al di là di raccontarmi se sei arrabbiato o non sei arrabbiato, se le cose ti vanno bene o ti vanno male, ecco, non si va in profondità. E se non si va in profondità non c'è cambiamento. C'è solamente una presentazione di un malessere esistenziale. Ed ecco il terzo grande errore. Non chiamare per nome le proprie cose. Cioè non sapere definire, quasi mettere a fuoco quali sono stati i miei atti, quelle azioni, che mi hanno messo in contrasto con la misericordia di Dio, con il Vangelo. Perché noi dobbiamo sempre tenere fisso lo sguardo sul Vangelo, continuare a fedelmente, radicalmente, a osservare il Vangelo di Cristo. Quindi tutto ciò che ci allontana dal Vangelo di Cristo come mentalità, come affezione del cuore, come relazioni con gli altri, nella preghiera, ecco, tutto questo non funziona e bisogna necessariamente confessarlo. Ma bisogna dargli un nome. Spesso noi diamo dei nomi generici. Diamo dei nomi, possiamo dire, che il sacerdote capisce e non capisce. Quasi che possa essere solamente intuito. Non credo che ci sia più la questione della vergogna. Forse in qualcuno è rimasto ancora questo retaggio della vergogna. Ma proprio la fatica della modernità di chiamare le cose col proprio nome, perché chiamandole col proprio nome, allora sì che io posso iniziare un vero cambiamento. E il quarto elemento è legato a questo. Perché non so chiamare le cose col proprio nome? Perché non credo alla misericordia di Dio. Non credo che realmente posso essere perdonato. Se io so chiamare le cose col proprio nome, so quali sono quei punti, quelle zone della mia vita, quelle catene, quei legami che vanno sanati da Cristo, che da solo io non ce la faccio e decido di cambiare con l'aiuto di Cristo, con la grazia di Cristo, perché credo nella sua misericordia, mi abbandono alla sua misericordia. Come Pietro, Signore tu sei tutto, tu sai che ti voglio bene. Questo spesso non succede. Allora bisogna fare attenzione, perché se non c'è Gesù Cristo e non c'è la fede nella misericordia, la confessione potrebbe semplicemente ridursi a un annullamento retroattivo di male di quello che ho fatto. Per cui faccio un'azione buona e la mia azione buona, nella mia mente, cancella ciò che ho fatto di cattivo. Non c'è pentimento, non c'è voglia di cambiare, non c'è voglia di amare il Signore Gesù e di amare come il Signore Gesù. E il quinto, ultimo errore che si compie nella confessione. Quindi non solo non si crede nella misericordia di Dio, ma soprattutto non si riesce a prendere un reale proposito di cambiamento. Cioè un'azione concreta, circoscrivibile, scusate, che si possa quasi verificare. Per cui io mi impegno, mi impegno e in un certo qual modo metto tutto me stesso nella preghiera, nella mia volontà, nella mia libertà, per uscire da quel tunnel. Un impegno concreto però. Non sarò più buono, sarò più paziente e cercherò di fare qualcosa. Queste sono generici, non ci crede nessuno a queste cose qui. Bisogna essere oggettivi. Se sei uno, per esempio, che fa uso di pornografia, devi confessare, faccio uso di pornografia. E allora il tuo proposito concreto sarà combattere questo atto che ti porta a svenderti dinanzi a uno schermo. Ricercando il perché, ricercando i tempi morti che ti portano a commettere quel peccato, le circostanze che ti possono aiutare a commettere quel peccato, capite? Che diventano poi un puzzle che si compone. Ma tutto si concentra soprattutto su questi due grandi assi che formano la croce di Cristo. Cioè il Signore Gesù e la sua Pasqua, che per noi è resurrezione e vita, e che non vi è nessun peccato che non possa essere perdonato se si è pentiti di vero cuore, è il credere fortemente, decisamente, radicalmente nella misericordia di Dio. Perché solo questa mi può salvare, solo questa mi può rendere realmente me stesso. E che cosa sono io? Un gran bel dono. Perché il Signore mi ha fatto per le cose grandi.